e se ne ha ruzzolato tutta la moto a qualche parte oh per me è sulla trappola si? la mattonella minchia ah e mi è caduta ce l'avevo in tasca oh si scivola si 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 gli interessa solo i gradoni oh ma dove siete? l'hai trovato Zappi? eh siamo a noi siamo già arrivati qui a capo oh quello che conta è che l'avete trovato e poi basta se no ripiazzare Zappi bravo bravo tienila che ce la puoi fare oh lo pazza era meglio se stavo zitto oh il tuo godì tanto che adesso eravamo là lì fa oh tanto che aspettiamo Zappi hai fatto il quaderno con tutti i punti di spi il quaderno pieno che non lo fai oh